Salve a tutti, nuova puntata di questa serie L'anima di rimortarci tua E allora, ci ritroviamo in questo anfratto buio e tempestoso perché? Perché ci tocca affrontare un drago o meno penso che sia un drago perché tutti parlano Pigiki, contratto della scorsa puntata, parla di un drago lassù Ho visto il candelabro, il famoso candelabro perché io una cosa ho capito che dove c'è un certo candelabro, ovvero quello lì c'è un boss Ora Io la vedo brutta, ma tanto brutta Preparo l'arco, 251 frecce Dovrei benedire l'arco, ma no Non ho pagine benedette, peccato No, non ne ho, va bene Ok Spada d'arco, non so che cosa Andrò ad affrontare, comunque va bene Auguratemi buona fortuna Eccala Caracca mi sei anche bruttissimo, porca mi sei Sei brutto Eeeh Cosa vuoi? Cosa vuoi da me? Cosa vuoi da me? Eeeh 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 Cosa? 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 Che cosa? Cosa? Dove sei? Di 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 Via Fattene Eeeh Eeeh Tutto lontano Devi stare lontano Eeeh 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 Ah Forse ho capito Mi ha evitato il suo attacco Ma tua mamma Tanto resiste tantissimo alle frecce Eeeh Quindi mi sa che le frecce Faccio poco E io non riesco ad avvicinarmi però Niente Non riesco ad avvicinarmi Eeeh Ia La 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 Lì Da Porca Quella Tua mamma Via La 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 Via Lo Da Lo stesso mi prende Porca Tua mamma La Mira Via Ok Via La Via 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 io a quest'inizio ii ho un problema ok ok poi via dove ok in ma se vaya via ci vorranno tantissime frecce via beh mi ha preso lo stesso finché non ho più non ho più cose sto sotto acqua benedetta qui che è un casino forse rammendo innuendo rammendo va bene io così rammendo tanto una freccia alla volta potrò tirare non è che potrò stirarne palle combo e io facciamo e va bene ok allora diciamo a un certo punto ci ho quasi preso il ritmo e ho capito un po' la cosa però è lunga avvicinarmi ho capito che proprio ad avvicinarmi non ci riesco proprio questo l'ho capito qua ci sono quelle 4.000 anime rotte 4.000 di sale quasi 5.000 di sale non gliele vorrei lasciare in tutta onestà ok ok porca miseria però almeno io devo aspettare punti via ok questo poi e vabbè la 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 non gliel'ho preso no ho sbagliato via ma porca ma porca la sotto arriva porca miseria via ok ok poi ho levato praticamente nulla vabbè eh e me frega ma porca miseria oh ok vai vai oh che casino che casino che casino che brutta cosa e mi ha preso lo stesso che mi ha preso lo stesso via ah porca niente non ok non è che starci troppo lontano perché se no poi non ci arrivo a evitarlo quando faccio l'attacco questo in salto no ole io punterei a fare una cosa se ce la chiesco cioè arrivare a quel livello lì recuperarmi il sale e poi salutare perché almeno con quel sale un livello un livelletto ce lo faccio però devo riuscire a non perdere eh la 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 eh ole ok certa distanza eh ok eh 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 ok vai poi ok 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 ah 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 no 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 eeah ah eeah er ah eeah ah eeah Forse La faccio Ok Ok Sì Ciao 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 Ok Ok Abbiamo aperto uno shortcut Io direi Non siamo pronti Non siamo pronti Con il richiamo E Andiamo al passo dei banditi 4000 di sale Allora Non so C'è un po' codarderia Un po' viaccheria Però Insomma Avete visto Mi c'è voluto tanto Per recuperare Quel pezzettino Per recuperare il sale Insomma Capite voi Sali di livello È un livello solo Però Serve Tanto serve Allora Albero abilità Io Qua me serve Un po' di forza Che non posso recuperare qui Quello Spadaccino Classe 3 E Ok Ok C'è capito Un attimo Una situazione Che non è bella Praticamente Dovremmo per forza Andare di là Da quelle parti Più o meno Il problema È che non siamo Forti Pronti Attrezzati Forza Ne serve Ancora Tanta Ne serve Però Mi sa che dovremmo andare Stavolta Sulla resistenza Oppure Ancora Volontà Si Volontà Che poi Sblocca Quella forza Di là Va bene Fifi Ancora Sulla volontà Dai Tu Quello È Il co Qua C'è la guida Questo Cosa Vende La luce Di devara La luce Di devara Allora Che Imparano Acquista oggetti Certo Che l'arma Benedetta Non sarebbe Ma Ricetta Con la luce Già ce l'ho Allora Impara I miracoli No Fatto Ciao Allora Io Dopo questa ritirata Strategica Però vedo che ci sono robe Comunque Dopo questa ritirata strategica Io direi Un attimo Di Ligare Qualcos'altro in più E vedere un attimo Un po' Tutta la situazione Lo so È backtracking Avete invece visto Se andiamo in zone In zone Già viste Lo so Il problema Problema Che non siamo Dove sei? Problema che Allora Intanto Andiamo qua Carpa D'anime Di ornice Che cos'è L'ornice Intanto Opriamo Questo Sciarcattino Che non è male Qua 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 Andiamo Abbastanza tranquilli Perché Perché sto facendo Testa strada indietro E il motivo È molto semplice Devo Tornare dove Posso Comprare Frecce Perché 175 Sembrano tante Ma Sono Molto meno Di quanto Si possa pensare Intanto Per sport Questo Che ogni volta Mi Questo Ogni volta Ai tempi Era Una Iattura Ora Con Colpo Di spadone Va via Che è una bellezza Qua Ah Quante parti Che c'è Stato Allora Allora Qua c'è L'altra Roba Ok Scusa Via Dalle scatole Ce la prende a male Torniamo proprio Inizio 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 C'ho Maniscalco C'ho Questo Qua Allora Saluti Piace Acquista Ok Per favore Io vorrei Frecce Tante frecce Tante frecce Quanti soldi ho A voglia Ne vorrei Un po' meno Un po' meno Un po' meno Che vanno benissimo 200 frecce Vanno benone Ok Fatto Vai in pace Eh grazie Qua c'è un maniscamba Buoni lavoro di forgio Vediamo se poi potenzia Posso potenziare l'arco Mi servono 1500 di sale Ok Fermi tutti Scusa Scusa Petta 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 Scusa Questa Quanto mi dà Di sale Sento Allora Avevo altre robe di sale Questo cos'è Basetto D'energia Di fuoco Pria La ricetta La sostanza E' probabilmente Solo una Ricostruzione Approssimata Ma ne che mi dici A cosa serve Vabbè Non lo sai tu Comunque Eh no Non ho altre cose di sale Perfetto Dovrò girare un pochetto Dovrò girare un pochetto Per arrivare a questi 1500 di sale Ecco di torso Lì Oh Bene Tira da queste parti E' un po' Ho il problema Che la lama è un po' lenta Però Tenta Eh No E' bella Evati alle scatole Ah Oh Su Via Orecchio Del coso Annegato Ok Ah C'è Sono lupetti Sono arrivato A 1000 1500 di sale No Ancora no Però Ah là Sì Era la trappola E sarebbe stata Quella trappola Lì Qua Tanto Non c'è più Io direi Che io mi ricordo E qua c'era Eccolo qua Non c'ho ancora Quel sale Non c'ero Non c'ero Io Però Tanto Che noi Un presto giuramento Non da banna Non te la prendete a male Non Non ve la prendete a male Ora Siamo un attimo Te l'ho detto Che non siamo pronti Per il drago Quindi Ora Io sto da un po' in giro Ma Il mio obiettivo È semplicemente Sì Comunque Volontà Ce ne serve Tanti Che Volontà Sarebbe La stamina Ce ne serve Tantissima Perché Due colpi E Due Tre colpi E praticamente Finisco Tutta la volontà Qua No Non va bene Oh Ciao Senti Allora Andiamo di qua No Qua c'è il bosco Il boschetto Del Allora Dove potenziare La Questo Ce lo evitiamo Qua si sale su E finiamo Dall'altro lato Di sto coso Oh Ci passiamo Torniamo di là Scusate E lo so E E Un momento Un po' così Siamo Ah Cioè Tornarci qui Da overpower E' un'altra cosa C'è più Soddisfazione C'è con la cosa Che quasi Tiene Tua mamma Che quasi Te ne puoi fregare Ah Qua Non lo ricordo Va bene Allora Senti C'è un'altro E tu Non lo Mamma Allora Io direi Intanto Facciamo Pensiamo A Riprenderci Quella cosa La Prendiamo C'è C'abbiamo C'è il fabbro Possiamo Potenziare L'arco Bisogna I lavori Di forgia E di redditi Potenzia Potenziamo L'arco Potenzia 1500 E diventa Sì Ok Ah Arco Semplice 4 Ok Ne dici E 14 Io devo Puntare Tantissimo Intanto Sull'arco Devo potenziarmi Le armi Fondamentalmente Perché Devo Essendo E comunque Sono lente Devo Farsi E siano Di quelle armi Che Che Spaccano Tutto Tipo Con un colpo Ora Ecco Deve essere Così Devo Deve essere Armi Che Con il quale Gli prendo Il tempo E Con queste armi Con il quale Gli prendo Il tempo Dente Ho racconto Tanti Di queste Robbe Da Crafting Ma Ma Tua mamma Oh Zanna Affilata Possibile Il capo Non abbia Proprio Nulla Nulla Da dirmi Ma Ma c'è Il capo Qua Non ce l'ho Qua Il capo Capo Vabbè Qua non C'ho La guida Va bene Dobbiamo Tornare Un attimo Di là Forse Andiamo Di qua Così Ora Torniamo Nei pipistrellini Qual è Poi Sì Comunque La volontà Mi serve Tantissimo Perché Adesso Devo Fermarmi Proprio Per Il discorso Della Volontà Ecco Se Posso Affrontare I nemici Peno mai Con questa Sicurezza Che cosa vuoi Gingilli Aaaaa Si 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 Io qua Adesso Te li compro No ma Lascio No Si Due te li compro Ma forse Vabbè Tre Facciamo tre Mi ricordo Sano due A tre Per un Potenziamento Ok Vai via Si si Che idea Di pericolo La ringrazio La ringrazio Vossia Io intanto Però Andrei Di qua Allora Qua Qua ci sono Pipistrelli Pipistrelli Via Le scatole Capo Se non mi sbaglio Dovrei averlo Qui Se non mi sbaglio No Manco qua Ce l'ho Posso fare Un'offerta Dov'è Capo di pietra Eh si Ciao Lo metto qua Tanto Passo dei banditi E qua vicino Ok Fatto Capo Capo Si Ha abbracciato La luce Di Vara Lavora Va bene Ciao Robbe Orecchio Di un bersagato Orecchio Di un uomo In gabbia Niente Non Vado via Scusi Niente Facciamo punta a capo Allora Facciamo punta a capo Col passo dei banditi Io tra l'altro Sono scemo Perché non ho visto Sono Abbastanza scemo Sono abbastanza scemo Da non aver visto Lo shortcut Dove portava Quindi io Non ho la più pallida idea Di dove si prenda Quello shortcut Ah Tutti vanno avanti Oh Via Eppure tu Oh La Mi recupero Qualche freccia Ok Quello Io sono sicuro Accomanti Via dalle valle Io non sono mai andato Lassopra Non è che quello là Perché isolato Mi droppa qualcosa Tua mamma Vediamo Vediamo Ok Allora Salta Così Qua la tua mamma Io Ti odio Con tutto il cuore Ti odio Amico Infatti là c'è un drop Oh Là c'è un drop C'è una roba Porti anche il razziatore Va bene Ora Ah Io non l'ho visto mai Con l'ascensore Vuolete vedere Che è quello Vuole vedere Che è lo shortcut Che ho aperto Sì È quello È quello Dove sono qui Eh Non ci credo Non ci credo Believe Believe that Dov'è Sì Dimmi di sì Sì Non ci credo Ho un santuario nel castello Ho un santuario nel castello Fermi tutti Fermi tutti Fermi tutti Fermi tutti Fermi tutti Ora Guida La guida subito La guida subito Ora Mercante subito Ma pure l'alchimista Ti metterei pure il mago Un mercenario nel mercenario Non ne faccio niente Il mago Poco altro Io direi Ok fatto Bellissimo Ma tu chi sei Ma Eh Aspetta Questa è Questa è quella cantante Io mi ricordo come si Tina Turner L'alchimista Tina Turner Sempre The best Pau 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 Trasmutare Fermi Fermi Perché la trasmutazione Mi sa di qualcosa potente Ora Vediamo Trasbutare Quattro fogliate Mila Cinquecento La tua mamma La tua mamma La tua mamma Allora Va bene Trasbutare Fatto Fermi 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 Ora arrivo Fermi Faccio Ora arrivo Fermi Fermi Sto arrivando Calma Calma Devo fare un attimo Sto sale Faccio il suo sale Tanto Tutti quelli che sono Tipo un colpo Mi cipo Ma porca di questo Tristina la vera Però Eh 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 va bene Sì sì Oh Tua mamma Eh 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 Chi Io Dove è farlo con la testa Dove è farlo con la testa Dove è farlo con la testa No Via 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 Non ce li ho ancora 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 Via 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 Tu No 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 Io vado di qua Mi scusi Oh le Mamma mia E se cosa Lo perdino Scusi E se Tu Espero che ti ammazzo solo uno di querti due cosi via con la calma con la calma con la calma eh non l'ho capito che facevi sushi sushi bar eh 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 usci usci carasci eh te ne è andato te ne è andato? ma mi fai per il sale io so che mi fa ciao via tua mamma sei bastardo allora io devo fare devo mazzarti uno solo o fa quello o quello la devo fare queste quelle 1500 di sale che mi serve devo fare quei 1500 di sale che mi serve usci ti pare che non t'ho capito a te ah bravo bravo hai fatto appena tornare io ormai i tuoi tempi li conosco eccolo eccolo bella attenzione togli e quando muori porca miseria dai 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 non volevo non volevo non volevo non volevo non volevo ma è bastardo adesso aspettavo a fare mi recupero un po' di frecce 22 che poi non sono tutte ogni volta che non le recuperi tutte recuperi una parte di quelle frecce lì sempre là solo e sconsolato allora andiamo a te trasmuta trasmutami sto arco allora me lo trasmuti trasmutiamolo sì arco della tribù del falco infame non me lo trasmuti più c'è nel cavaliere fradicio e idolombra me lo trasmuti minchia però diventa diventa però bonus forza qua diventa D invece qua abbiamo forza e destrezza e no e non mi conviene la trasmutazione la trasmutazione di quello non mi conviene raccogli buone cose farò cantare le tue armi ok allora acquista frecce 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 tante frecce 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 tante frecce io direi 150 150 frecce ce le prendiamo e si 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 le frecce non bastano mai fatto si vado in pace la ringrazio quella è la guida che poi mi consente andare dove voglio soprattutto mi consentirà di raggiungere sempre sto posto che non è affatto una cattiva cosa io ora dovrò salire lassù vediamo allora una cosa è certa dobbiamo farci un po' di giro dobbiamo farci un po' di giro ammazzare sti cosi allora sono antipatici questi la fortuna fortuna vuole che questi vanno giù abbastanza agevolmente in senso due colpi e vanno giù fortuna vuole questo però questo quattro colpi non è il massimo alla vita ma ok una cosa buona è che adesso abbiamo un santuario santuario vuol dire che possiamo arrivarci quando vogliamo basta un campanellino e ci arriviamo io io avevo recuperato comunque delle robe non è che per caso qualcuno di queste cose mi dà più difesa del fuoco possibile può essere però subisco più di colpo e allora io vado no non è qua dove cacchio è no qua si va qua si va al boss no non siamo pronti non siamo pronti non siamo pronti per il boss non siamo pronti non siamo pronti cosa qua c'è però questa cosa io non la capisco eeeh allora eeeh dove finiamo dove finiamo dove fin minchia ecco dove finiamo sì eeeh ci veniamo lì c'ho quasi questa la mano allora sì l'arco decisamente ma vabbè non mi sembra mi fa un punto di danno in più a questo mago non mi sembra che trasmutandolo sia diventato l'arma l'arma di cristo ecco però c'è lì il teschio della brace qua c'è le frecce senti possiamo vedere un attimo altre parti c'è sto coso ok coccio rosso allora fuppamelo la tua mamma ma io sono scemo ok allora Olè Ora Via Fatta E' fatta Non mi droppi niente No Non mi droppi nulla Là c'è una leva Là c'è una leva Ci potrò arrivare Forse da altre parti Dai Ma di qua cosa c'è? Ah c'è sempre Vabbè ciao eh Ok Mi do- me la dovevo togliere sta soddisfazione Non dai neanche tanto di sale Forse sei Sei un poveraccio Ma me la dovevo togliere sta soddisfazione Allora Una corazza spaccata Dov'è sta corazza? Bardatura e razziatore Informazioni? Ma posso prendermi una corazza Pacari anche pesante Che mi dà Abbastanza Protezione dal fuoco Corazza spaccata Armatura pesante 2 Maffanbagno Allora Questo mi dà 100 Protezione fuoco Eeeh Vabbè Qua protezione fuoco Mi serve Mi serve a palla Perché proprio c'è Qua Mi serve a palla Proprio la protezione da fuoco Cioè non posso farci niente Dunque io là Ho fatto Quello devo far Io Allora Ed è uno Torniamo al santuario Torniamo qua Allora Scusa Qua non c'ho il coso Allora Istituto Negozio Tu lo sai Ah il corno Ah il corno Il corno Sì Corno Corno Poi lo compro Ok Qua Devo smontare E che devo Trasmontare Che posso Trasmontare Io Sto Uno scudo Massa di diamante Che cacca Come lo Non posso Non posso E va bene Sì Va bene Quando sarà possibile Lo faremo Amico mio Stato Stiamo andando Un po' Così Vediamo un po' Così qua Io qua Non so che cosa Ok Amma benedetta Se ne è andato Ceneri Nel teschio di braccio Va bene Se ne va lui Torna Se se ne va Poi torna Io vedo Se percato Ha droppato Coppe No Non ha droppato Niente Perfetto Possiamo andare Di là Allora Qua c'è Un tasto Che io Non voglio Toccare Qua ci sono Quei ascensori Che vanno E vengono Scusa Io però Voglio provare Una cosa Aia Ok Perché Io Eh Sì Ciao Eh Ok Rondaccia Della Fenice E mo Che serve A me Io mi devo Volevo vedere Il settimo Allora Cosa Allora Io ho Tutte Se cose E Allora Inventare Posso vedere Un attimo L'inventario Qua Lampo Di fuoco Eh Dove Quella cosa La rondaccia Della Fenice Io ho Un sacco Di ste robe Che poi Non riesco Allora Guarda Io vi Si usi La rondaccia Della Fenice Ma Non so Che cos'è E che L'ho Capito Sarà Un po' Insumabile Non lo so Io Tanto Sono Allora Nello Rigenera E Questo cos'è Nella vita Mentre il sale No Rigenera HP Fermi Tutti Perché Questo Mi serve Fermi Tutti Perché Questo Mi può Servire Allora Questo Condotto Una mente Blocca Le Minime Questo Può Servire Questo Aumenta La volontà Questo Aumenta La resistenza Rigenere HP Si Penso Che Mi possa Servire Anche se Sarò Un po' Meno Agile Ma Anche Sti Cavoli Direi Anello Del Fuoco Limpem Mia Aspetta Fermi Tutti Che qua C'è Qua C'è Cosa Non posso Risalire Non posso Risalire Allora L'anello Del Fuoco Di Impem Comento La tua Difesa Al danno Da fuoco Potrei Eventualmente Ho capito Che non serve Quella cosa Oh Due Tre Quattro Qua mi ritrovo Di nuovo Ciao eh Io Io vi saluto Da lontano E vado Di là Non ve la prendiate Non ve la prendiate A male Ma io Tornerei Al santuario Perché forse Con questo sale Forse Posso salire Di livello Sali Di livello No Non posso Salire Di livello Cazzo Di Bu Comunque Ehm Me serve Lavoro Di forza Scusate Non è Entusiasmante Questa puntata Probabilmente E' più Una puntata Di riorganizzazione Dopo Diciamo Tragica Constatazione Del fatto Che Non Sono Pronto Per il drago Ora Torniamo E finiamo Al passo Dei banditi Ok Sono un po' Più Tranquilla Più o meno Qua si scende Si finisce Qui Io Ma Ma ci sono Stato Che là C'è un altro Ascensore Là c'è un altro Ascensore Però Ehm E dove mi porta Né che me lo ricordo Ok Andiamo Andiamo Giù Uh Sì Ok 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 Allora Tenta lei Mi scusi Signor orco Di nuovo Lì Ok Ok Senta Ti scusi lei Signor orco Chi mi ha ammazzato l'orco Di No 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 Sì Mi devo riprendere quel sale Lo rivolgo Lo rivolgo Rivolgo quel sale Lo rivolgo Lo rivolgo Lo rivolgo Assolutamente Non esiste Proprio Cosa è Non so Che mi serve Per salire Di livello Ok Tu ha Tenimilizzato Con Oh Colecca Il contadino Il contadino Mi ha fatto fuori Così Uno No look L'ho fatto fuori Ok Ok Guarda che concetti Ah Pura una ciocca ai capelli Bene Bello, così Era qui, giusto? Era qui che dovevo andare Sì, che era qui Io rivoglio il mio sale Rivoglio il mio sale Lo rivoglio A quell'orco io non glielo lascio 4.000 e 4 di sale A quell'orco io non glielo lascio Va bene Va bene Il mio sale È mio Ora Si può fare Tra l'altro Eh, andiamo ne qua Ah, non c'era niente Ok, c'era solo il drop Va bene Ok Io direi che qua possiamo anche staccare Andare con calma al santuario Tornare al santuario Quello lì Perché tanto comunque al passo dei banditi ci arriviamo C'è la palla al castello Se vogliamo ci arriviamo abbastanza agevolmente Mentre arriviamo al santuario Intanto comincio a salutarvi Non l'ho ricordata la scorsa volta E ho fatto male Ricordo sempre gli hashtag Ovvero punto primo E tutta colpa di sabaku E l'altro hashtag Ovvero Sti cazzi e la lor Detto questo Un saluto a tutti quanti voi E alla prossima